Armando, Armando, no comment, ma come no comment? Che intervista è? Facciamo un bilancio della giornata, soddisfatto? Ti aspettavi di più? Sì. Addirittura di più? No, ma lo Junior è più tanto. No, lo Junior è una delusione mondiale, europea, anzi. Perché è un discorso di bobina. Vi hanno cambiato la bobina prima del via e il motore non andava in qualifica. E adesso parte sempre da dietro. Parte ultimo. Ha fatto un paio di manche? Sì, ha fatto 17, 16, 18. Di vere cupane. Però è dura. Peccato, peccato. Mentre per Ben? Eh, per me devo lavorare quelli di motori lì adesso. Perché il telaio non me lo lascia toccare. Mi è arrabbiato prima perché volevo toccare il telaio. Quindi c'è da limare ancora qualcosa? No, no. Penso che domani ci fanno posto. Va bene, va bene. Bene, non c'è. È scomparto. Bene è andato a curarsi perché è sempre con gli acciacchi. A preparare un pilota nuovo. Ah, ok, va bene. Grazie.